Il libro mascherato. Il gioco proposto consiste nell'estrarre da un testo famoso la trama essenziale e riassumerla in modo corretto, ma creando qualche difficoltà di identificazione, anzi lasciando supporre che si tratti di un'altra opera. Il titolo deve essere ingannevole e allontanare il lettore dalla soluzione. Mirandolina, dramma della gelosia, con conflitto di interessi per l'intrusione di un playboy straniero. L'eglesiastico di famiglia, invece di mettere pace, semina a zizzania. Per fortuna la cameriera di lei, con l'aiuto del suo ragazzo, che sempre ne ne combina quattro, sistema tutto. Ma la storia non finisce lì e ci vorranno vent'anni prima che tutti si rappacipichino.